Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo appuntamento con WWE Super Ragazzi, finalmente ci siamo, il grande giorno è arrivato Finalmente anch'io sono arrivato al nuovo livello SummerSlam 21 Ragazzi, i pianeti si sono allineati, i titani sono risorti Oh mio Dio, un casino Fermi Potremmo perdere questo livello se non ci impegniamo Perché siamo arrivati poi ovviamente ad un pelo Grazie allo scorso video, se l'avete visto, abbiamo Ho scelto di pullare Dominic Misterio Cioè Dominic Ho scelto di pullare una carta SummerSlam 21 dal Supernegozi E' uscito Dominic Misterio e l'ho portato a livello massimo E l'ho allenato sia nel Performance Center sia negli incontri in Road to Glory In Sipo, lo dico E sono troppo emozionato ragazzi, sono troppo emozionato Finalmente anche Crysis può giocare al massimo della potenza in questo Supercard Finalmente Gli ho fatto giocare gli incontri in Royal Rumble Ragazzoli, entriamo in game subito perché veramente c'è da fare il mondo stasera Voglio, veramente, dobbiamo fare Cioè sarà un video che faremo più parti perché oggi sto registrando il 5, martedì sera Farò anche un video insieme a Wild Wednesday che ci sarà domani sera Farò un video tutto quanto insieme, uscirà oggi che dovrebbe essere credo venerdì in calendario A seconda di quanto escono i video, non lo so ma comunque dovrebbe essere venerdì Signori, è bella stellina la sua madonna ragazzi, bella Stasera si andremo a fare anche il primo free pack opening nel nuovo livello Abbiamo già 100 ticket, proprio guarda, casca a pennello Bam, perfetto Stasera proprio il video perfetto Siamo a SummerSlam dove neanche si vede la barra Neanche Abbiamo già un punto interrogativo che a questo punto ci dirà Quale sarà il prossimo livello Esordirà nella prossima stagione Perché signori vi ricordo che tra circa un mese e mezzo probabilmente ci sarà il fantastico download Della ottava stagione Incredibile, sarà un'ottava stagione veramente dove ci sarà il mondo Tutto WWE vs All Elite Veramente incredibile Comunque prendiamoci questi 500 crediti che veramente sono la cosa forse più importante Ci servono, credi, abbiamo speso il mondo E sì, si è conclusa anche l'ultima Giant Unleashed Ho ottenuto, come avete visto nello scorso video, la carta forgiatura donna Purtroppo dalle ricompense non ho ottenuto niente Cioè il massimo ottenuto era stato Royal Rumble 21 e Wrestling Mania 37 Basta Zero proprio, neanche una forgiatura Quindi purtroppo è andata male Rispetto alle scorse volte Però, grazie al nostro amico Dominic Che gli manca relativamente un'ora Quindi manca veramente poco Possiamo anche con 10 crediti Prendercelo anche il Performance Center Sti cazzi È pronto al 100% E grazie a sui incontri A tutti quanti gli equipaggiamenti avevamo messo alle Superstar E tutto quanto il resto Siamo arrivati finalmente al nuovo livello Questa sera ci prendiamo la freebie Andremo a pullare 100 tickets Quindi il pacchetto fiero E poi concluderemo anche con Wild West Primo Wild West Anche se non so se ci sarà Perché onestamente ho visto l'avviso subito brutto Brutto, dove sta? Dove sta? Manutenzione Domani ci sarà la manutenzione Quindi spero ci sia comunque Wild West Almeno non ci sia qualche screzzo Penso ci sia Ad ogni modo, signori Direi che questa sera Possiamo già iniziare con fierezza Questo video E reputisi È bello Wow Allora Fra 40 minuti sono mesi Collezionabili ci mancano 11 collezionabili E andremo ovviamente a fare questo da 100 Penso che sia la cosa più plausibile Anche se ci daranno una singola ricompensa Non ho fatto il tweet drop Vabbè sti cazzi Non importa Signori abbiamo tutto quanto Le carte di regola Per andare avanti Prima di tutto Voglio anche modificare i mazzi Perché Non ho fatto L'autorempimento degli altri Vediamo un attimo Che livello siamo Un totale Prima di andare a progredire Ring domination È quello più importante Ci sarà breve Andiamo già a Samusland 21 E poco poco di più È quello che mi interessa a me Mentre nel Codebreaker Ci sarà questa settimana Siamo a forgiatura Neanche plus Io proverò comunque a giocare In questo evento Vediamo un po' come Come andrà a finire Se ci riusciamo a prendere Almeno qualche cosa Perlomeno Poi ci sarà più o meno Il Clash of Champions Come L'Hmest Standing Quindi abbiamo anche Di ricompensa in fondo Eccetera Signori Io direi che possiamo Già andare Direttamente In draft board Perché sì Allora signori Noi abbiamo Tre carte Torniamo un attimo Indietro Abbiamo soltanto Tre carte Samusland 21 Ve le faccio vedere Quindi andiamo Direttamente Tutto generale Samusland 21 Abbiamo Dominic Che al momento È il più potente Che abbiamo E va bene Già messo Nella slot Il limpeto Non dobbiamo perdere Nella slot Il limpeto Perché altrimenti Perdiamo il livello Se perdiamo uno slot È perso il livello A casa piange dalla mamma Prossimo abbiamo Nash Carter Presi da uno scorso evento E poi abbiamo Anche AJ Styles Preso quest'oggi In Team Renomination Quindi Le polizia sono Veramente Pochissime Ti potete portare a casa Uno di loro tre In questa freebie Noi però ci speriamo Vero signori Oggi è il gran giorno Quindi tutto deve andare Perfettamente Abbiamo 5 carte Quindi la freebie Arriverà subito Cominciate di qua sotto Nei commenti Quale potrebbe essere Signori Intanto aspetto Avete commentato Avete commentato Signori Quindi si va SummerSlam No Gen 7 Distruzione Prossimo Tommaso Ciampo Sì Tommaso Ciampo Certo Come no Vabbè Andiamo avanti Ok Drew McIntyre Prossimo Eccola signori La nostra SummerSlam For EBI Oh Oh mamma Bianca Belair Donna Donna Bella 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 Truscina Bella Bella Yeah Donna Che scherziamo Tutto in to the dust Tranne che L'ho bloccata Non voglio pa' cagate Bianca Belair Signori La nostra Fruibi Signori Oh yes E Sì Credo che andrà nel deck Quindi potremmo forse Dico forse Confermarci il livello Potremmo confermare il livello Quindi anche se perdiamo qualche cosa Forse non torneremo indietro Allora io un po' se ho qualcosa da dare Probabilmente sì SummerSlam 20 Qualcosa da buttare Quattro carte da buttare Abbiamo E 76 Va bene C'è Scarlet Che non sta più nessun deck Guardate Addirittura rinforzo 2 Era una buona carta Ma buona per il tributo Di Bianca Belair Che a questo punto Dovebbe essere la nostra seconda Donna più potente Andiamo a vedere in top Forse ci siamo confermati Forse ci siamo confermati Il livello C'è una piccola barra Che non dovrebbe estinguersi Se perdiamo qualche slot Impito e quant'altro Ad ogni modo andiamo a Vedere un attimo Dovremmo essere comunque sì Infatti Ok le nostre due sono più potenti Loro sono loro Va bene Va bene Ragazzi È perfetto Cos'è questo segnalino qui Perché Login Che vuoi No non voglio E Signori Che dire Finalmente siamo arrivati a nuovo livello Cioè è veramente Da quando è che è uscito Oggi è il 5 ottobre È uscito da una vita Il tier Summers L'en 21 Cioè sono arrivato veramente tardi quest'anno Di solito A parte che sto giocando poco Rispetto anche agli anni scorsi Sono molto più impegnato Rispetto ai primi tempi Dove prima potevo Soltanto concentrarmi Soltanto su questo gioco E tutto quanto il resto Cioè Siamo arrivati veramente In fondo alla stagione Adesso dobbiamo soltanto aspettare Prossima settimana Con il Super Pass Le ricompense di Halloween E veramente Il grande boost Di fine stagione Sta per arrivare Con il Super Pass E tutte le missioni ci saranno Noi non aspettiamo altro Signori Siamo Pronti Diobono Pronti Ma siamo anche pronti Per questo free pack Oh quindi signori 100 tickets Subito in Summerslam Non dovrebbe essere cambiato nulla Vero? C'è The Rock Stasera guarda Lo fiero No dovrebbe essere sempre Il pacchetto Dovrebbe essere sempre lo stesso Donna Massimo Forgiatura Duomo Fino a Summerslam Contiene 5 dei seguenti Però beh No Ma è cambiato Perché altra volta Non c'era appunto L'allenamento Summerslam 21 Quindi c'è Stavolta c'è anche il trollino E ho già bello capito Guarda ho già visto Come andrà a fine sto video Dai però abbiamo fatto abbastanza Quindi non può andare peggio Vorrebbe soltanto andare meglio Prenderemo una pro Da questo spacchettamento Una pro Io se la prendo ora La prendo nel Wild West Se c'è Signori Procediamo 100 tickets Li abbiamo guadagnati Adesso li spendiamo Sti cazzi vai Pacchetto Da 100 tickets Per la terza volta Andiamo a vedere Che cosa c'è all'interno Di sto pacchetto Abbiamo fatto Di solito Fripa Come li facciamo Poche volte Invece stavolta Più volte nel tempo Meglio così Meglio così È già la terza volta Nel gioco di poco Si parte 3 2 1 Boom Oh 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 Vedo già una brutta carta Biomeccania Non ci deve essere Comunque partiamo Con elementari Di Samoa Joe Anche peggio Del biomeccanico Tra l'altro C'è una beat Ramble Una Press 97 E altre 18 Che vediamo un po' Simbolini Che poi se appagiano Piano piano Oh 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 Però un ramble 21 Allenamento Biomeccanico Abbiamo due S-Wrestling Mania Tutte quante S-Wrestling 37 Ma anche S-Wrestling 37 ormai non ci facciamo niente È proprio ormai Un livello che possiamo tranquillamente Evitare al massimo Anche le donne pro S-Wrestling 37 Possono servire per deck secondarie Ma non mi interessa a me in questo momento Hulk Hogan Ok andiamo avanti C'è una forgiatura Oh Sasha Banks però vedi Eh sarebbe anche pro tra l'altro Sarebbe anche pro anzi rinforza Mi sa il rinforzo Perché l'ho già pullata Un'altra volta mi sembra Ieri o ieri l'altro Dovrebbe essere rinforzo Se potessi parla proprio Sarebbe rinforzo Abbiamo una forgiatura là sotto Eh Allenamento Allenamento La forgiatura Eh Un allenamento E perché se fosse una forgiatura donna Sarebbe ancora buono Andiamo avanti con Royal Rumble 21 Yoshirai Royal Rumble 21 Sarebbe rinforzo Non ci interessa solamente niente Ancora nove carte là sotto Da scoprire Oh Bam Brutus Berber Beefcake Niense Niense Royal Rumble 21 Un'altra forgiatura Potrebbe stavolta essere Una superstar Mi sta bene Quasi quasi Anche guarda Ah Shanna Basler No Era forgiatura L'altra volta L'abbiamo presa Era forgiatura Forse Dovrebbe essere singola Abbiamo un'altra forgiatura Là sotto E poi abbiamo ancora Quattro carte da scoprire Intanto Randy Orton Wrestlemania Oh Mandy Rose Singola forgiatura Bestia Niente Mi sa che ormai là sotto Non ci sarà più nient'altro Versi 27 Versi 27 Allenamento 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 Niente Ri misterio Poi allenamento Allenamento E Ria Rifley Signori Uno spacchettamento Che poteva sinceramente Andar molto 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 meglio Mandy Rose È l'unica carta Decente Da questo spacchettamento Da questi 100 ticket Lei è l'unica carta decente Che purtroppo È singola Quindi Nisba E che può fare Niente Che può fare Quanto manca Per un Per vedere quanto manca Oh possiamo fare Sì lo facciamo Lo facciamo Andiamo in to the dust Si spacchettà anche Nella draft board esclusiva Mi interessa Ci manca 1200 punti E le facciamo 1200 punti Te lo dico io Che si fanno Si fanno Si fanno Da che magari ci avrà Anche un altro reset Perché il gioco è matto Stasera Siamo matti Sto registrando Vero tutto questo No perché sai Sì sto registrando Spero Sì No Perché potrebbe Succedere anche qualcosa Perché sai Io quando faccio dei video Si di fretta e furia Poi magari Mi scordo anche Di avviare la registrazione E poi bestemmio dopo Voi non mi vedete Bestemmiare Perché È chiaro ma Fidatevi che è già successo Almeno Un paio di volte Buone si eh Ah beh Dai ragazzi Non stiamo a parlare Di queste cagate Andiamo a pullare Perché questa sera Dobbiamo Distrug Dolph Ziegler Wow Elementale L'importante è prendere Carte buone A modalità abbastanza alta Perché mi servono punti Voglio farla subito In tutte le dust Immite clean Potenzialmente Potremmo prendere Anche carte forgiatura E non sono reset card Quindi Beh Potenzialmente Potenzialmente si Potenzialmente si Abbiamo raggiunto Il massimo Quindi tutto quanto Ci da 1055 Non ci basta Quindi torneremo A pullare Ovviamente si Ci manca Ci manca Pochissimo 80 punti Ragazzi Quindi Direttamente Si va a pullare Queste 11 carte Che bastano E avanzano Per un pull In draft board Esclusivo Dai let's go Siamo a 90 E' Cominciare a panico Per davvero E' Pagando questa qui Al centro-destra Bam Noo Oddio Mi ha tregarato Un botto Ma è pro Non lo so Dai no Bianca forgiatura Ma è pro Comunque Mi sa Io ti blocco Voglio anche Ma vediamo Mi sa che è pro Oddio Che 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 fa Combina Forgiatura Si Si Bianca pro Due bianche Stanno Allenate Bene Alleniamo Abbiamo Ok Perfetto Signori Andiamo direttamente In performance Center Due bianche Andranno Seriamente Allenate Perché Si 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 Ho detto Quello bianche Però Quella sbagliata Però Mi ha dato Comunque Una buona Ad ogni modo Va bene So contento Però se mi dava Quella Summer Slam Vedete Ero molto Più contento Peccato Comunque Combinate Forgiatura Signori E la nostra Prima Donna Seconda Donna Forgiatura Quindi Ehi Madonna Che cagate Ho fatto E l'ho messa Vabbè Niente Devo L'alleno La tolgo Dal performance Center E la Rebuto Di là E' sbagliato Sbagliato Palestra E capita E capita E può capitare No Togliamola Da qua Perché infatti Mi sembrava strano Che non Usizzavo Crediti Mi sembrava Appunto Strano Mettila di qua E qui Deve andare 100 credit Ti guarda Ti le regalo Scusa Entrambe In elemento Tutoring Andiamo a fare gli incontri Signori E' stato migliore Il draft board Esclusiva Del ticket Nel free pack opening Quindi Adesso Ci vediamo Direttamente Con lo spacchettamento Del wild Wednesday A tra poco Ragazzi Fra 24 ore Ed eccoci In questo finale Di video Con le ricompense Di questo Wild Wednesday Il nostro Primo mercoledì Wild A livello SummerSlam 21 Oh yes Signori Abbiamo già Concluso tutto quanto Dobbiamo soltanto Pullare Sostanzialmente Quindi Ragazzuoli Partiamo Direttamente Con i tickets Che nella prima parte Del video Purtroppo Non ci siamo riusciti A completare Insà che cosa Però qualcosa Abbiamo preso Ma purtroppo Nisba E poi Andiamo a prenderci I nostri soliti Crediti E signori Questa sera Potremo veramente Sbancare Il nostro primo Mercoledì Wild SummerSlam 21 Deve essere Epico Epicissimo Veramente Quindi andiamo a prenderci L'allenamento Bam Ci da Mastodonte Mastodonte Vai La serata Mastodonte La serata Peggiore Il mercoledì Wild Peggiore Speriamo sia tutto qua Nell'ultimo Facchetto ragazzi Potrebbe essere tutto qua Nell'ultimo Mastodonte 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 Qua giù ci deve essere Il mondo Dammi Che ne so Due forgiature Una Sam Slam Immaginate Vedete saltà Saltà proprio Con le mani Come un gibbone Vai signori Andiamo a pullare Madonna Vai 3 2 1 Bam C'è Kane C'è una forgiatura C'è una forgiatura C'è Scommettete La forgiatura È Arthroof Oppure È Kofi Kingston Che porta Rinforzo 2 Che non è un'altra Pro Scommettete Guarda Dominic E Singola Singola Adunno E poi abbiamo Kyle O'Reilly Ok Allora per questo Dominic Io comunque Ti blocco A prescindere Ma credo Tu sia singolo Nuova carta Sicuramente Non è né Kyle né Kane Ad ogni modo Abbiamo lei Oh my god Va bene E basta Forgiatura Combinabili Niente No Ok Ad ogni modo Con l'ultimo Stamping Grounds Abbiamo concluso Quindi ho ottenuto Due estrazioni Ho trovato lui Il draft board Esclusiva Niente Lui mi ricordo Era in un evento Però purtroppo Non l'ho preso E mannaggia Vabbè Comunque singolo E niente da fare E questa sera Dominic Misterio Va bene Signori Io potrei concludere A questo video Perché abbiamo già fatto Abbastanza Video epicissimo Finalmente siamo arrivati All'ultimo livello Di supercard Per questa settima stagione Siamo pronti Per Per l'avvenire Signori Prossima stagione Arriverà fra poco L'ottava stagione È veramente Alle porte Ad ogni modo Abbiamo una bianca Belair Forgiatura Dobbiamo portare A livello pro Quindi con lei Ci confermiamo Tale livello E continueremo A progredire nel gioco Fino alla fine Anche perché sarà un mese Ricco di roba Vi ricordo C'è il superpass C'è anche le missioni Che arriveranno Di Halloween Le nuove carte di Halloween Sia penso Pullabili Quelle vecchie E magari qualcosa In camera di fusione Per quelle nuove Ma staremo a vedere Perché già tra Parli di settimane Chiaramente Comincerà il tutto Signori Vi ringrazio per la visione Spero vi sia piaciuto Questo video No ci vediamo Comunque nel prossimo Ciao a tutti ragazzi